È stato un momento difficile sia tra Covid e la scomparsa di mia sorella e ovviamente da qui a quando smetterò di giocare, ogni mia partita sarà per lei. Sì, diciamo che dove non ci arrivavo con le gambe ci mettevo la testa e tutta la buona volontà. Probabilmente devo lavorare tanto per ritornare ai livelli di prima e lo farò già da martedì. Nel secondo tempo loro sono stati bravi a chiudersi, a non creare spazi e per noi è stato più difficile. C'è stata la voglia, l'impegno da parte di tutti di provare a rimetterla in piedi, purtroppo non ci siamo riusciti. Sicuramente non dobbiamo pensare all'avversario che abbiamo davanti, noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo e dal momento che abbiamo raccolto fino ad oggi solo pochi punti dobbiamo già con il Napoli cercare di ottenere il massimo bottino.